Musica Hello guys, Ranjana here, benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale Dormiamo E' la prima cosa che si fa sempre in tutti i video, la sapete vero? Lo sapete che la prima cosa si fa è dormire e quindi noi lo facciamo sempre Ok, andiamo a nana A parte gli scherzi, non ho ancora craftato tutti i pc perché... Oh, fermo, fermo, in realtà non ho craftato... Ehi, porta! Non ho craftato neanche uno perché stavo... Che cazzo ci fa lì un creeper? Ehi, creeper Creeper? Non scoppiare, eh? Non scoppiare, eh? Io ti bisciotto la famiglia, ti bisciotto Bravo, creeper Bravo Dobbiamo vedere quante turtele ci servono Allora, ci servono Due, quattro, sei, otto, dieci turtele Turtele Quindi dobbiamo andare a fare prima un po' di legna Legna, foresta, salve Oh, una mucca Uccidiamo la mucca, non si sta mai Può sempre tornare utile Allora, ci serve un po' di legna Un po' di legna Un po' di... Oh, eccolo qua Facciamo qui... Oh, che cazzo è la... Ah, la roba delle capre di Luke Le capre di Luke Devo farmene dare una, in effetti Così poi mi faccio la farm di blocco di diamanti Me ne farò prestare una in un safari net, bro Me ne farò prestare una In un safari net Sono comodissimi quei cose, guys In effetti Se ci togliete il consumo di elettricità Che usa l'autospauner Che comunque non è niente di particolare E... Sono ultra, ultra comodi Sto, sto sboscando una foresta qui Ah, fermi tutti Togliamo, eh... Zia Togliamo questo Mettiamo questo Vai Tutututututututututututantan Eee, quanta legna bella Mamma mia Perché la mamma ti porta via la legna Asda Nooo, sono caduto No, sono caduto Sono caduto, sono caduto Sono cadusciato Vabbè, vai, tira questa roba giù Quest'altra roba giù Ma più che altro, Luke ha fatto una cosa sospesa nell'aria È pazzo, cadrà prima o poi Vabbè, tanto anche lui ha i long fall fuckies Che sono utilissimi Non so perché alla fine Cioè, è vero che me lo stavate scrivendo E me lo ripromettevo anche io di farlo da sempre Ma sono tipo strautili Ma perché cazzo non li ho fatti prima, dico io Ah, qua è tutto fermo Perché il query nella tui light Tui light, non tui light Tui light, va bene bros Ok? È fermo Ha finito di fare il suo dovere E quindi Qua mi sembrava stupido Andare a dare altra Andare a dare altra energia Dammi un altro po' di legna Another po' di legna Perfetto, siamo a posto Andiamo a farci un po' di cestole Allora, dobbiamo fare 10 pc Quindi dobbiamo fare 10 tartar Scusatemi Quindi 10 chest Allora, iniziamo a fare 10 chest 7 Allora, qua iniziamo a fare 10 pc Ce la facciamo 6, 7, 8, 9 No, ci manca la stone Ci manca la stone E noi la cuociamo No, no, però Ok, cuociti Perfetto Qua dobbiamo andare a prendere l'altro legno Che si starà smitragliando qua dentro E quanto l'abbiamo preso E il suo mille E' una cosa Effettivamente molto molto utile Allora Così Bonina Bonina benona Perfetto Ce ne servono altre 3 Ne abbiamo 10 Ok Quindi Qua Siamo a 10 Perfetto Ok Ok Dobbiamo andare a prendere un botto di ferro Qua ci mettiamo della stone Che non si sa mai Sapete com'è Potrebbe sempre tornare utile Questa la togliamo Questa la mettiamo qui Intanto mi scrivono Un ts Scusatemi Scusisciatemi Ma Mi dimentico sempre aperto Quel dannato ts Ci chiediamo Una stack di ferro Abbiamo finito Abbiamo finito il ferro? Oh casperina No, no, no Non voglio tutti i diamanti Ne voglio uno di diamante Give me un diamante Perfetto Un diamante Ok Perfetto Abbiamo un altro po' di ferro Avete visto come si fa? E' molto interessante Molto molto interessante Dovremmo fare andare il quarry Per cazzo di nostri effetti adesso Ma non mi va di craftarne un altro Perché quello lo vorrei lasciare là Perché è un posto molto molto utile Bross Molto molto utile Molto molto utiles Ok Ok Ce la possiamo fare? Sì Ce l'abbiamo fatta Ok Abbiamo consumato un botto di ferro Ma ce l'abbiamo fatto lo stesso Allora andiamo a mettere Che cazzo sono queste? Ah ce l'avevo Sì sì Allora andiamo a mettere questi qui Ci serve del ferro Del ferro Qua abbiamo Qua non abbiamo più un cazzo Qua cosa abbiamo? Ah qua abbiamo altro ferro Guarda qua il ferro è finito Eeeh latin Eeeh Vabbè Questo possiamo anche lasciarlo lì Allora vai su Vai vai su Perfetto Ce ne andremo in miniera Uno di questi giorni Perché a noi piace la miniera Lo sapete Cioè a me piace la miniera Quindi voglio l'assorbita per forza Cioè proprio C'è sta storia Eeeh Dov'è il mio cibo? Ah ok Qui Grazie Dobbiamo effettivamente fare delle turtele Con le spade Quindi Mmm Andiamo a prendere Mmm Le spade Però non quella di Diamond Perché cioè Non voglio proprio impazzire Allora abbiamo Uno per 64 più 16 Uno per 64 più 12 E 39 Eeeh Penso che ci convenga di più Utilizzare Quelli rossi Quindi No Non ne voglio un'intera stack Ce ne servono 20 Giusto? Esattamente Ce ne servono 20 Quindi 20 qui Perfetto Queste le vai a posto E con quei 20 Ci facciamo 10 spade 10 spade 10 spade Ok Ok Abbiamo anche 10 stacchini Che cosa figa Che cosa figa Che cosa figa Non abbiamo 10 spazi però Ah fermi tutti Mettiamo qui la soul sand Mettiamo qui questa roba Ora abbiamo 10 spazi Almeno Spero Immagino Forse Direi Più o meno Non si sa Ok 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 Perfetto Adesso Così E dammene 1 E poi metti queste qua dentro E dammene Altre 2 E poi metti questi qua dentro E dammene altre 2 E poi metti questi qua dentro E dammene altre 2 Bross bross Ok Dammene tutte E siamo a 10 Ok Adesso le andiamo a piazzare Corri Corri Ma dov'è il mio jetpack? Ok Vola Perfetto Corri volando Eeeh La Mi sembro più lento del solito Non so perché Saranno il peso delle tartole 10 tartole In effetti i gai Si pesano Allora Mettiamole così Andiamo qui Eeeh 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 9 E 10 Bam E la nostra Ehehehe E se è un esercito E un esercito Allora andiamo qui Scriviamo Label Set La chiamiamo Renna 1 Ok Poi Fermi Label Set Renna 2 Perfetto Poi Label Label Set Renna 3 Ok Poi Label Set Renna 4 Ok Label Set Renna 5 Label Set L'ho scritto Attaccato Mi sa infatti Label Set Renna 5 E cazzo L'ho staccato Con Renna 5 No Label Set Dove essere Attaccato Renna 5 Ok Perfetto Poi Label Label Set Renna 6 Brothers È un compito Infame Ma ci tocca Farlo Label Set Renna 7 Ok Ne mancano Solo 3 Label Set Renna 8 Poi Label Set Renna 9 E Label Set Label Set Renna 10 Perfetto Le abbiamo Denominate S Tutte Adesso Che cose Ci tocca Andare a prendere A casa di Luke Ma non ci vado adesso Il programma Per farle picchiare Come delle dannate Questo però Lo facciamo In un'altra In altra Occasione La faccio a telecamera Spente Mi porto la roba E ci facciamo Un disc drive Intanto E poi andiamo a vedere Allora Disc Disc Io Ci serve Eccolo qui Un disc drive Che cosa cazzo Cambia Cambia E questo è più semplice Quindi ci facciamo Quello più semplice Stone E due di redstone Allora Stone Redstone Ce ne serve due L'abbiamo qui Fortunatamente E la stone Non ci manca Quindi facciamo Così Perfettamente E Ci mettiamo due Di redstone In mezzo Non ce ne serve Più di uno Perfetto Con questo qui Praticamente Adesso vi faccio vedere Bross Noi lo mettiamo a terra È un disc driver Dove noi Qua dentro Metteremo un floppy Vedete Eccoli qui Eh Ok Adesso Anzi ci facciamo Anche un floppy Un floppy floppy Ok si fa con una redstone E un paper Paper Abbiamo papers Paper Oh yeah Paper Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Certo che ce l'abbiamo È una redstone Un radstone Ok Redstone È un paper Floppy disk Il floppy disk Lo possiamo colorare A seconda di quello Che vogliamo farci Quindi Lo facciamo Con un colore Semmai Un po' più Fico Un po' più Fico Fico Vediamo un po' Ah rosso Rosso Che colore abbiamo? Che colore abbiamo? Eh Abbiamo 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 il bianco Si può fare col bianco Se non voi Eh Se no Che abbiamo Qua abbiamo Il giallo Perfetto Allora il floppy disk Che abbiamo messo Qua dentro Ok Facciamo col bianco Vediamo cosa succede Ah diventa così O così diventa giallo Vabbè noi lo teniamo bianco Bianco ci piace molto Ci piace abbastanza bianco Si 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 Quindi adesso noi Cosa andremo a fare? Andremo a fare che Mi prenderò il floppy disk Da Luke Che andrà messo qua dentro Che andrà messo In un computer Barra turtle Anzi ci facciamo Proprio un computer Adesso guardate Ci facciamo un computer Da tenere qui A casa Per queste operation Va bene Quindi ci facciamo Un computer E un altro floppy disk Ok Quindi Lo mettiamo Così Perfetto Allora Facciamo che Il nostro computer Con floppy disk Lo mettiamo Nella stanza su Perché facciamo La stanza programmazione Ci sta Ci sta tutto Allora noi mettiamo Questo qui E questo sotto Cioè questo sopra Perfetto Questo è il nostro pc Noi lo apriamo Facciamo Label Set Renna pc Eccolo qui Abbiamo il nostro pc Ehm Lo ho chiamato Shoot Shoot Down No Come cazzo Shoot down Era Il Ok Perfetto L'abbiamo spento Ok Perfetto Andiamo giù E questo è quello che ci servirà Noi cosa andremo a fare Andremo a prendere Floppy da Luke Questo ce lo Spacchiamolo Ok Andiamo a fare Andiamo a prendere Floppy da Luke Ci copiamo il programma Sul nostro pc Di casa Dal pc Di casa Io lo copierò Sul nostro floppy Che noi andiamo a inserire Adesso qua dentro Perfetto E Una volta fatto questo Copiato qui Andiamo a piazzare Con quest'altro Disc Drive Il programma In tutte le tartole Quindi Mi sembra una cosa Bella e giusta Quindi guys Non perdetevi la prossima puntata Che vediamo di far funzionare Quel cazzo Il mob spawner Enjoy E che l'arena sia con voi Bye bye